Tornerà secondo voi il signor Jonesy Bunker anche in questo evento a darci una mano? Io lo chiamo. Jonesy! E' a noi! Ma ha risposto. Ho fatto. Allora, perché vuoi di che viene? Ehm, viaggio. Si può rispondere mentre si guida. Corro, la senti l'ansia? Troppo. Senti la musica che sale! 5, 4, 3, 2, 1! La fi... No, un punto. Esca a me. Oh oh, iniziamo a guardare il cielo, iniziamo a guardare il cielo, di solito è così. E' sparito il raggio, è sparito il raggio. Sta cadendo nuova. Cos'è questa voce? E' lì o strega che sta urlando. Sta per esplodere la piramide, se gli spariamo... Non senti neanche l'audio dei tuoi proietti. Non senti neanche gli spari. Ok, quella piramide lì è pronta a fare dei danni. Io mi nascono dietro questo tizio. Guarda, è il cubo che si è caricato. Prendete lui, non me! La regina del cubo è arrabbiata, mi dicono. Mi dicono che è molto nervosa. Non si dice una donna che è enorme, con una musa. L'ultima realtà è prossima. Guardate il cielo! Guardate il cielo! Gli alieni! Esistono! Gli alieni esistono! Questa è la prova! L'area 51, adesso si aprirà tutto. Arriva, arriva, lo spara, spara! Come spara? Come spara? Oh, stiamo calmi! Stiamo calmi con le navicelle! Mi sta salendo l'ansia, ragazzi. Mi sta salendo l'ansia, veramente. Ottimo, ma le spacchi, le spondi veramente, le itti! Certo! Signora, si calmi! No, si sta prendendo una camomilla, mi dà l'idea, eh! Mi dà l'idea che lei ha bisogno di una camomilla! Si sta prendendo tutto il cielo! Ragazzi, sta per succedere la fine del mondo, veramente. Guarda, arrivano i ciambelloni! Che c'è stato mangiare i ciambelloni? Se c'è lo zucchero e la crema! No, ha rotto lo scudo! Ha rotto lo scudo! Cacchio, io ho già subito un botto di danno! La scelta ha iniziato a chiudersi! Tra l'altro abbiamo pochissimo materiale per chiudersi. Come distruggere tutto, signora? Ma l'educazione, che vuol dire distruggere tutto? Sparate le navicelle, sparate le navicelle! Oddio, ma a me sa tantissimo di Matrix! Sta musica che sale! Adesso, io ho nessuna pietà, per favore! Oddio, ragazzi! Stanno dette in bestioni! È Doomfreeze! Oddio! Nessuna pietà, ma che sei del copraccai! Oddio, no, 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 no! Stiamo calmi, eh! Oddio! No, ragazzi! Cosa succede? Cosa succede? Cos'è? No, non ho più l'arma! E mo come le picchio? Cacchio! Acciapponi! Acciapponi! Vi faccio un balletto! Tutto, tutto, tutto! Se ballate non vi fanno niente! Sono buoni se ballate! Vogliono ballare con voi! Stanno attaccando il cubo! Stanno tutti attaccando il cubo! Cacchio! Cacchio! Perché? 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 Ha aperto praticamente lo spazio! Sì! La regina del cubo! È come se la via Lattea fosse adesso aperta! E tutti gli altri esteri viventi umani possono venire qua da noi! Senti come ride! Ha rotto il cubo! Senti come ride! Ha rotto il cubo! Abbandonare la base! Abbandonare la base! Tutto l'ordine immaginario! Abbandonare la base! Abbandonare la base! Sveglialo! Eccolo! Dovevi proprio fare l'eroe Jones! Sì, doveva! Cosa succede agli eroi? Beh, ecco! Sopravvivono e combattono ancora? Non stavolta! No, no, no! Non guarda! No, no! Non gli fate male! Non gli fate male! Non gli fate male! Anche se sono certa che mi piacerebbe! Qualcuno vada a vedere che succede! Sì! Sì! Spacca tutto! Vai! Vai! Dalla season 4 con furore! Mi sono ripetuto! Ma! E' The Rock! Mi sono ripetuto! Ma! Tu! E' The Rock! Oddio! Sei tornato per me! Mi hai promesso... Ma che c... Anche io ti voglio bene! Oddio! Allora, qual è il piano? E' The Rock! Cioè, sono passati quattro anni e non abbiamo mai saputo! Che cosa intendi fare? Portarci dall'altra parte. Aspetta, cosa? Dov'è? Com'è? Oh, questa la tengo! No, non penso proprio! Potresti fare un po' più in fretta! Puoi fare prima? Aiutati! E questo non è aiutare? Io me lo vedrei benissimo al cinema, ma comunque tutto ciò, eh! Al cinema, per me sarebbe fantastico! Come si fa? Va bene, ma tu! Problema mio, dice! Oh! Capito! Fatto! Iniziale fase 2! Lo per abitati! E' il bunker! Ecco come entreremo! Respingiamo! Finalmente servono a qualcosa quei bunker! Ma li voglio anch'io con le palline lì! Altro che Thermite! Sicura! Ci vediamo dall'altra parte! Che pescità, però! Epico! Siamo, siamo lui! Seguitemi tutti al ponte! Lì saremo al sicuro! Ma la grafica è diversa! Io vedo tutto più definito! È vero, è più definito! Guarda! Tutto cinematico! Guarda le casse! Guarda le casse! Guarda! Apro io la porta! Dai, dacci una mano, vai! Come rotazione di 5 gradi? Che vuol dire? Che ci stiamo a storge? Sì! Guarda, c'è storto! Mi sembra un po' più di 5 gradi a me, eh! Eh, no, il bus! Mamma mia, come flexi! Altro che derotte! Non cederò una pausa per bere! C'è un'altra strada! Cioè, meno male! Ci siete? Io ci sono! Ok! Indietro! Ma è bellissima questa cosa! Dentro! Si scivola! Si scivola! Che bello! Qui siamo al sicuro! Qui siamo al sicuro? Beh! Oh, ora forse siamo al sicuro! Ciao, Jones! Dai, Jones! Perché mi costringe sempre a salvarti! Mi costringe! Verac! Tieni una torta! È per te! Aguri! Concentrazione! Che vuoi dire? Di quello che mi decidi! Oddio! Ma c'è un bestione! È Doomfreeze! No, imbarchiamo acqua! Che figo, però! Bravissimi! Bravissimi! Vabbè, epic! Ma la serie tv su Netflix quando? Esatto! Sbucchiamo dall'altra parte! Sbucchiamo nella mappa nuova, voglio vedere! Secondo me sbucchiamo nella mappa nuova! Ah no! Vediamo che si gira! Buttiamo la resina sott'acqua! Stai a vedere! Guarda! Affonda! Dai, affonda! Vai, diventa Ariel! Vai, vai, diventa Ariel! Brava! Sirenetta! Vai! Ciao, bella! Bastava tirargli un po' d'acqua, era così facile! Che bello, però! Bellissimo! Eh, ma adesso fa uno tsunami pazzesco, ragazzi, eh! L'onda d'urto! E questa, ragazzi, è la nuova mappa! Capito, Londre! Madonna! Wow! 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 Io l'ho detto che arrivava lo tsunami! Io l'ho detto che arrivava lo tsunami! Aquaman! Salvaci tu! E ora? No, si sta così fermi per un giorno! Ma siamo su una zatterina! Sì, siamo su un pezzo di legno! Si sta così fermi per tipo un giorno, secondo me! Fino a lunedì, secondo me! Wow! Che vento, signori! Scrivete qua sotto cosa ne pensate! Se vi è piaciuto o non vi è piaciuto! A me ha gasato ai massimi! Bellissimo! Ma poi The Rock! Fuori di testa, ragazzi! Tutto epico, tutto bellissimo! Solo applausi! Mi raccomando, però, appena si riattiva Fortnite, inserite il codice creatore dell'Aioner Yt nello shop! Appena si riattiva, prima di prendere il pass, supportate il canale, ci date una mano e soprattutto siete migliori! Buon capitolo 3 a tutti! Ho i brividi, eh! Mi va dai peli ritti, ragazzi!